A siglare il protocollo di intesa in prefettura Potenza sulla rete per un lavoro più trasparente in agricoltura sono stati il direttore regionale dell'Inps, funzionari della regione Basilicata, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e dell'Ineil e rappresentanti delle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali di categoria Fai CISL, Flai CGL e Willa Will. Sottoscrittori insieme a loro anche responsabili datoriali dell'ente bilaterale agricolo territoriale di Potenza e di Cia Basilicata, Confagricoltura e Coldiretti. L'intesa sottoscritta è finalizzata a promuovere e incentivare l'iscrizione delle aziende agricole alla neonata rete del lavoro agricolo di qualità in maniera tale da favorire azioni di contrasto al lavoro sommerso, all'evasione contributiva e alla piena applicazione delle norme e assistenti in materia di sicurezza sul lavoro e rispetto della legalità. Con l'azione messa in campo si vuole insomma evitare il lavoro nero, lo sfruttamento lavorativo e la violazione delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro. L'altra questione, motivo di interesse da parte dei soggetti interessati alla sottoscrizione del protocollo di intesa è il riallineamento retributivo che, come il noto risponde, ha una duplice funzione. La prima è di consentire l'emersione dei trattamenti retributivi sconosciuti al fisco e agli enti previdenziali e assistenziali e la seconda è di adeguare i rapporti di lavoro formalizzati che si basano su un trattamento economico inferiore ai contratti collettivi.